Bene, quindi abbiamo capito che se all'interno del nostro editor scriviamo come se fosse Word questo qua mette tutto su una stessa linea, quindi ciao nuovamente vado di qua, rinfresco e qua viene tutto su una stessa linea e la cosa non va assolutamente bene quindi iniziamo a vedere qualche semplice tag un tag, ogni volta che noi mettiamo un tag, un etichetto come lo vogliamo chiamare dobbiamo metterla all'interno del segno minore e maggiore quindi noi sappiamo che ogni volta che andiamo ad aggiungere un tag questo deve essere scritto tra questi due segni quindi minore, in questo caso andiamo ad utilizzare un tag che si chiama paragrafo P, anche l'abbreviazione P sta per paragrafo quindi il paragrafo si apre e poi mettiamo uno slash P è come se facessimo così però si deve chiudere quindi noi abbiamo scritto un tag, questo è il nostro primo tag paragrafo e all'interno del tag paragrafo qui possiamo scrivere ciao a tutti punto esclamativo, command S ora andiamo nella pagina web e vedremo che non cambia assolutamente nulla, così sembra ecco qua, ciao a tutti ora a questo punto io copio direttamente questo paragrafo e scrivo anche ciao a me command S, rinfresco ed eccolo qua, ciao a me che si posiziona sotto quindi ogni volta che io scrivo un paragrafo, ciao a te lui me lo va a posizionare sotto e come si vede mantiene la stessa grandezza del font quindi noi sappiamo che se vogliamo scrivere un paragrafo dobbiamo inserirlo all'interno del tag P che sta per paragrafo ora andiamo, supponiamo che vogliamo mettere un titoletto, un titolo i titoli si mettono con un tag che si chiama H1 quindi andiamo a scrivere minore, H1, chiudiamo, ok? poi già che ci siamo facciamo nuovamente la stessa identica cosa e chiudiamo così abbiamo già il tag pronto, non dobbiamo fare nient'altro che andare a scrivere qui questo è un titolo command S per salvare, ricordiamoci sempre che i tag vanno aperti e chiusi e quando è chiuso ci va lo slash davanti quindi per fare questo simbolo qua dobbiamo premere shift set ok? shift set, ce ne va solo uno salviamo, torniamo dentro la nostra pagina e voilà abbiamo un nuovo stile diciamo che è il titolo questo è già più grande rispetto al P quindi ce ne sono vari, adesso te ne faccio vedere due o tre prima di andare a vedere meglio tutto quanto questo è un subtitolo questo è un H3 e questo è un H4 già che ci sono te li metto fino al 6 perché questi H5 e H6 così puoi già vedere che cosa accade e dopo non ti stresso più con questa cosa perché tanto non è difficile, è molto semplice, basta soltanto ricordarsi H1 sta per il titolo grande, H2 lo possiamo usare per i subtitoli quindi command S, ma comunque non ti preoccupare che piano piano li imparerai tutti ecco qua, come si vede questi sembrano anche più, hanno un effetto bold si dice, ovvero un effetto bold che in italiano è un grassetto rispetto al paragrafo quindi ce ne sono vari, adesso te ne metto altri due qua così ti inizia a fare l'occhio tipo se io volessi scrivere in corsivo uso il tag i perché i sta per italic quindi questo in inglese italic vuol dire corsivo questo è un testo corsivo command S, vado qui e voilà, questo è un testo corsivo se volessi scrivere un testo più piccolo del paragrafo qua, questo testo è piccolo utilizzerò il tag small e poi dopo ti faccio vedere dove puoi andare a cercare tutti questi tag perché io è inutile che, come si vede, questo è un testo più piccolo ora ti domanderei, ma perché questo si è posizionato di fianco a questo ovvero non è andato sotto e dopo lo vedremo ora, se volessimo aggiungere, mettere questo testo al di sotto di questo qua noi ci posizioneremo tra lì e lo small mettiamo una linea qui e poi scriviamo BR semplicemente così, command S e così abbiamo già creato un salto di linea ora ti domanderei perché c'è lo spazio tra questo ciao a me, ciao a te questi qua hanno tutti uno spazio mentre questi qua no e questi qua lo vedremo a breve quindi ci sono vari tag ne andiamo ad aggiungere un altro che è lo strong lo strong è per fare il testo bold ovvero come se fosse questo è un testo strong grassetto per farlo esattamente come se fosse questo qua ma più piccolo quindi command R e come si vede anche questo qua si posiziona esattamente di fianco a questo ora se volessi far sì che questo non accada semplicemente posso andare a inserire il tag all'interno del paragrafo quindi semplicemente facendo così questo qua si posiziona sotto ma queste cose qui le capiremo piano piano o